Musica Questo non è il coro dell'Accademia, l'Accademia non ha coro, sono tutti i solisti dell'Accademia che per l'occasione si sono trasformati in coro e non senza difficoltà, devo dire. Per fortuna abbiamo in Accademia un grande esperto del coro, che è il nostro direttore generale, che è il maestro Venazio Sorgrini, spero che lo vediamo qua, che ci ha aiutato questi solisti a diventare coristi, perché tra questi coristi trovate per esempio due meravigliose cantanti che avete sentito l'anno scorso nel Don Pasquale, alzatevi, ecco, alla fine del mezzo soccano di prima qualità, ecco, eccetera, 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 non lo dice veramente giusto, tutti, ma non sono coristi, sono ragazzi che hanno accettato di fare umilmente i coristi per servire la musica. E li ringrazio per il pubblico, per la musica e per tutti noi. Vittoria, 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 Sresa, dell'amilo di Roma che scavano di Roma vive gli anni e noi fratelli d'Italia, d'Italia selestra, dell'ente funice il sim方atista con veda il Ig Maestro Felini, nostro maestro, grazie a lui, un'altra maestra dell'Accademia, alla Muspili, insieme ai nostri solisti, noi tutti, come finale e soprattutto come ricordo di questa manifestazione italiana che è stata seguita veramente da tutti i paesi italiani, da tutte le città e da tutte le regioni italiane, con molto entusiasmo e con molto tervore, che ci ha emozionato. Quindi domando ai nostri solisti di avvicinarsi e di cantare e di cantare con voi il famoso Vato Pensiero. Grazie. 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 Grazie.